Bolzano senza auto per 7 ore dalle 9.30 alle 16.30 nella giornata di domani, domenica 18 settembre, e in occasione della 17esima edizione di Bolzano in bici, gara non competitiva organizzata dalla WISP che percorrerà tutti i rioni della città. A parte i mezzi autorizzati, potranno circolare quindi solo le biciclette, anche se le previsioni meteo non sono molto incoraggianti. Chi proprio non potrà fare a meno dell'auto dovrà uscire di casa prima delle 9.30, ma il comune ha ampliato le zone in cui è consentito transitare anche durante le sette ore di blocco, inserendo alcuni corridoi. Si potrà circolare nelle vie Merano, Castelflavon, Calvario, Maso della Pieve, dal raccordo con via Dürer, fino all'intersezione con via Volta, il tratto sud di via Claudio Augusta, tutta la zona produttiva di Bolzano Sud e la zona artigianale ai piani, via Sarentino e via Cadorna, a monte dell'incrocio con via Fago, via Vittorio Veneto e il percorso per l'ospedale, Ponte Virgolo, via Meirnusser, solo per i veicoli diretti al parcheggio Bolzano Centro, via Macello fino alla rotonda con Ponte Campiglio, via Rencio, via Cavour, via Wengenstein, via Beato Arrigo e via Sant'Antonio. Esentati dalle limitazioni i veicoli usati per il trasporto di portatori da handicap e soggetti affetti da gravi patologie documentate e che si debbano recare presso strutture sanitarie per interventi d'urgenza. Per quanto riguarda Bolzano in bici, la novità di quest'anno è che i partecipanti, che potranno iscriversi gratuitamente, saranno liberi di scegliere da dove partire. I sei punti di controllo sono dislocati a Casanova, al Parco Ducale, a Ponte Roma, in via Marconi, via Claudio Augusta e sul piazzale ai Prati del Talvera. Ognuno potrà scegliere il proprio percorso con l'unico obbligo di timbratura della scheda a inizio giro e la sua riconsegna entro le 16.30 al punto di controllo situato ai Prati del Talvera. Dopodiché verranno consegnati una maglietta e un tagliando per partecipare all'estrazione dei premi prevista alle 17.30. confermato anche il paglio dei quartieri, vincerà quello che a fine manifestazione avrà totalizzato il maggior numero di partecipanti regolarmente iscritti.